Mi trovo nelle campagne di Fiume di Nisi in compagnia di Lupitto, oggi domenica ci siamo fermati qui, insomma abbiamo mangiato presso dei parenti e naturalmente dopo un pranzo abbondantissimo a base di maccherone, di sassiccia rosso, di braciole, una bella passeggiata in compagnia di Lupitto, che ormai vedete si è fatto molto, molto grande ormai, è un cagnone, ama passeggiare moltissimo, poi qui in campagna è veramente molto bello, c'è una bellissima aria, lui raccoglie i millodori della natura, non si allontana mai da me, Lupitto vieni qua, fatti vedere, vieni, vieni, vieni qua, vieni qua, guardate quanto si è fatto grande Lupitto, saluta gli amici di Facebook, ciao amici di Facebook, ciao, au, e come sempre mi piace, che c'è già, bello, avanti scendiamo, andiamo?